La Bibbia è la parola di Dio e siamo certi che questo messaggio non è alterabile, non passa di moda perché è la parola eterna di Dio che rivolge a tutto il genere umano. Ho dovuto fare l'esperienza della salvezza, quella di incontrarmi con Gesù e riconoscere che Gesù aveva, era morto per me, per i miei peccati, perché c'è un verso nella Bibbia che dice che Dio ha tanto amato il mondo, ma in quel mondo c'ero anche io. La fiducia in Gesù è indubbiamente la maniglia che apre la porta agli interventi del Signore, al dono della salvezza, del perdono e alle sue preziose promesse. Grazie a tutti. Grazie a tutti.